puoi senti respirare e dice ma che cazzo che respirerà sta gente eccola la maledetta ora è smostrata sarà un demone no non è Laura si si ti seguo da quattro ore Eddie quello è bovita alla bagno esatto come sai di Mary? cosa è il grande problema? perché non puoi solo dire? si, James mi fai chiesto se non mi fai? no, non mi fai che bella illuminazione però siamo amici con Mary siamo riusciti all'ospedale è stato l'anno scorso sei liar Laura, io... ok, non mi credi ma l'anno scorso Mary era già... un altro pochino, aspetta scusate Laura comunque, andiamo comunque un po' la capisco James nella sua confusione mentale eh, non nemmeno per te no, torniamo... no, torniamo... wait, wait c'è qualcosa che ho bisogno dopo, ok? ma è davvero importante cosa è? una lettera da Mary eh? no? io voglio andare a prenderla è ok? sì, sì è certo Mary, rischiamo la vita di una bambina con una lettera ma no, Laura è troppo pericoloso stare qui c'è una lettera di la tua moglie morta andiamo ma è praticamente una trappola sì, in the back ok, guarda spero arrivi piramidead e mi stupri c'è i tipoli ne conosco, eh Laura? zippati what are you doing? fucking concern haha, I've tricked you eh, esce un buiole why, shut up I'm a liar, right? want me to open it? huh? huh? do you? what's the magic word? eh, fanculo Laura? ok credo che non lo apri credo che ti lascerò così oh oh tu snotty little brat aprile bravo, trattava male tu tu Laura? tu mi fai una quanta ragione allora, intanto prendiamo qualcosa di più adatto alla situazione eh? eh, che ne dici di questo? bam! sì, che poi ha ragione nel senso ma chi ce lo dice che è Mary Mary? cioè, io può non è che ce n'è uno solo è di Mary puttaci cioè, non è che si chiama Berenice dice Berenice c'è solo la mia non caricare porca futura eh, ma spendo troppi proietti io devo usare la pistola no, un altro ottimo eh che forse metà metà yeah sì, James andà yeah James ah, è tipo un lettino che viene trasportato e cosa dovrei aver capito di tutta sta roba a parte che ho consumato un sacco di proiettili per niente avete detto il bastone se questa famiglia avesse un'amica che si chiama Mary che era una sua amichetta no? lo poniamo è un'erosa fantascientifica eh ah, sono nel giardino ma sei ma che poi non è più la mappa ma che cazzo è successo? dai mancavano anche quattro porte ma i miei potevano far vedere no? qui ci sono giardino vabbè cioè se questa bambina aveva un'amica di nome Maria Mary o come cazzo si chiama cioè lui la mandava a morì così dice eh ma Mary Mary andiamo ma non ma ma